Ti piacerebbe vendere online prodotti o servizi? Sì, lo so, molti pensano che per vendere online sia necessario avere un negozio o creare un e-commerce o avere la partita IVA o essere esperti di marketing o programmazione ma in realtà vendere online qualsiasi cosa dal prodotto artigianale fino al software che hai creato tu dai contenuti fino all'abbonamento magari alla partecipazione a una community è molto più semplice di come molti pensano grazie però a un servizio che si chiama Gumroad Sahil Lavinja, il creatore di Gumroad ha pensato a questa piattaforma per permettere in modo semplice di vendere semplicemente vendere qualsiasi cosa il prodotto fisico, il prodotto artigianale o il prodotto online il corso, il contenuto, il video, la musica qualsiasi sia il prodotto che vuoi vendere o il servizio che vuoi mettere a disposizione della tua clientela l'abbonamento, il biglietto di partecipazione a un evento potrà essere venduto tramite Gumroad quando ho scoperto Gumroad qualche anno fa me ne sono subito innamorato per la semplicità infatti puoi creare in 5 minuti una pagina sul web senza avere un sito web, senza avere un blog senza avere un dominio, senza avere nulla tutto su Gumroad e da quella pagina puoi vendere il tuo prodotto o servizio in più non dovrai pagare nulla come? è gratis sì, è gratis Gumroad è gratuito non ha un prezzo di iscrizione e guadagna solamente in percentuale in base alle vendite che fai effettivamente quindi non dovrai pagare un abbonamento e magari non vendere nessun prodotto andando in perdita ma Gumroad guadagnerà e quindi avrà per te un costo solamente se ti farà guadagnare ho creato un videocorso online totalmente dedicato a Gumroad e a chi vuole vendere sul web per tutti coloro che vogliono vendere prodotti fisici o artigianali per chi vuole vendere prodotti online, digitali come videocorsi o contenuti per chi vuole costruire delle community e monetizzare queste community attraverso servizi in abbonamento o membership la cosa più bella di Gumroad è che ti consente di avviare un business e di monetizzare il tuo lavoro online senza dover pensare alla costruzione di e-commerce senza fare investimenti in anticipo senza doverti preoccupare di fatturazione e micropagamenti ma al tempo stesso dandoti il pieno controllo della relazione con il cliente e la possibilità di entrare in contatto con le persone che comprano da te prodotti e servizi all'interno del corso impareremo a creare una pagina prodotto per vendere subito i nostri prodotti o servizi su Gumroad vedremo come avere a che fare con i nostri clienti grazie agli strumenti messi a nostra disposizione da Gumroad come la possibilità di inviare email ai clienti o avere un database dell'intera clientela con tutti i dati che ci servono e poi anche come gestire l'incasso, i nostri guadagni maturati su Gumroad come rendicontare e gestire il passaggio dei soldi dal cliente a Gumroad e da Gumroad al nostro conto Paypal dove potremo spendere ciò che abbiamo guadagnato e infine vedremo come fare marketing quali sono gli strumenti che Gumroad mette a nostra disposizione dall'affiliazione ai codici di tracciamento quindi funzionalità più avanzate che ci consentono di fare pubblicità su Facebook, su Instagram, sui social media o anche su YouTube e sul web il tutto sarà condito da casi studio reali basati sulla mia personale esperienza infatti io per primo ho utilizzato per tanti anni Gumroad e quando ce n'è stata la possibilità vedendo la crescita di questa piattaforma ne sono diventato addirittura investitore entusiasta naturalmente partecipando al corso avrai anche la possibilità di avere un attestato di partecipazione e di farmi le tue domande direttamente per incoraggiarti a iniziare subito questo corso metto a tua disposizione in questo momento uno sconto speciale del 50% sul prezzo del corso ora è il momento di imparare insieme a vendere su Gumroad grazie a tutti 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 Grazie a tutti